Dai, su via, è ora di farmi demonetizzare anche questo filmato, perché oggi parliamo di acqua del bagnetto e soprattutto di Belle Delfine. Ma chi è questa Belle Delfine? Ciao internet! Belle Delfine è una internet personality, possiamo definirla così. Ragazzina estremamente carina, estremamente provocante e soprattutto molto brava nel provocare una fetta particolare degli utenti della rete a provocare gli appassionati di gaming, gli appassionati di fumetti, gli appassionati di manga. È diventata famosa con una immagine, in realtà che non suggerisce praticamente nulla. La Egao. Questa immagine. Sì, con una serie di Egao è diventata famosa. Egao che è l'espressione che normalmente hanno durante l'orgasmo i manga giapponesi. E così, ciao monetizzazione. Ma è molto di più di questo. Belle è riuscita a costruirsi uno spazio enorme all'interno dell'immaginario collettivo di tutta una serie di utenti della rete. Quegli utenti che la supportano attraverso un Patreon, cioè diventando mecenati suoi con una tariffa che va dai 25 dollari in su, e sono quasi 4.500 le persone che hanno deciso di investire su di lei, per avere contenuti particolari, contenuti dedicati, e contenuti, come dice lei, un po' lewd, un po' sporcaccioni. Niente di pornografia propriamente detta, ma immagini allusive e vedo non vedo, o nudità parziale. Ecco, non solo. Belle è diventata una maestra nel creare hype, nel creare aspettative e nel far parlare di sé tutta la stampa. C'è riuscita qualche tempo fa, aprendo un canale su una nota piattaforma di pornografia in cui ha messo filmati dai titoli suggestivi, tipo PewDiePie entra tutto in Belle Delphine, dove c'era lei che mangiava una foto di PewDiePie, o lei che gioca con la sua amicetta, dove gioca con un gatto, o lei con Huge Cock, che può essere tradotto con un enorme gallo, ma non è esattamente il termine nella lingua inglese, dove lei mangia semplicemente un Kentucky Fried Chicken, e una serie di titoli di questo tipo, suggestivi, presa in giro. Motherboard l'aveva definita la regina dei troll online, e l'ultima delle sue trovate è assolutamente fantastica. Già, forse ne avete anche sentito parlare non sapendo che era lei, perché ha deciso di vendere online l'acqua del suo bagnetto, l'acqua in cui ha fatto il bagno, l'acqua profumata, eccetera, per i suoi gamer boy, thirsty gamer boys, i gamer boy assetati. Ecco, è geniale cosa è riuscita a creare come hype, da una serie di persone che stanno facendo le review di loro che bevono l'acqua, anche se c'è scritto che è per uso emozionale e non è assolutamente da consumare, gente che lo mette nei vaporizzatori e prova a fumarsela, fino a una serie di notizie. La prima, che una persona è finita in ospedale dopo aver bevuto la sua acqua, e la seconda, secondo la quale, nel Daily Mail, più di 50 persone hanno contratto l'herpes dopo aver bevuto la sua acqua. Con un solo dettaglio, quasi irrilevante. Le ultime due sono finte. Già, perché, a parte il fatto che non è assolutamente possibile prendere l'herpes di tutte le tipologie dall'acqua, semplicemente del bagnetto, ma, a parte quello, sono ambedue creati da account parodia, che però le hanno riportato un sacco di notorietà in più. Già, perché le persone non sembrano distinguere qual è la presa in giro verso quelli che hanno comprato la sua acqua e quelli che hanno comprato la sua acqua. Sono almeno 500 persone che hanno comprato 30 dollari di bottiglietta, con, si vocifera, oltre 1500 persone in coda per farle arrivare. Si è proprio sicuri che sono fake news, anche perché nel momento della pubblicazione è Bel Delphine stesso, a che dice che non ha ancora spedito i primi barattoli delle confezioni. Vero o non vero? Aumentano l'immaginario collettivo, aumentano la notorietà di questa ragazzina, classe 1999, di classe di nazionalità sudafricana, che ha saputo fare una cosa. Ha saputo prendere la sua bellezza, non indifferente assolutamente, ha saputo coltivare un immaginario preciso di una fetta della popolazione maschile e ha saputo coccolare questo immaginario proponendo esattamente il tipo di immagini che queste persone vogliono. Le immagini legate a cosplay, le immagini legate a una sessualità particolare, l'immagine da brava ragazza acqua e sapone, ma capace di quelle birbanterie che ci si aspetta. Belle Delphine è l'esempio tipico del soddisfare una particolare fetta di pubblico. Non vi dico di seguire il suo esempio, non è esattamente forse il modo più etico per andare avanti, ma vi esorto a vedere la simpatia con cui racconta le sue storie, vi esorto a vedere la particolarità dei suoi messaggi e del tipo di messaggi che scambia con la comunità che la segue, vi esorto soprattutto a seguirla per capire quali saranno i prossimi stratagemmi, perché potrebbe non essere forse la migliore delle internet personality, ma da un punto di vista di strategie, di marketing, beh, secondo me ha tanto tanto da insegnare, ha tantissimi professionisti là fuori. E voi cosa ne pensate? Me lo raccontate qui sotto, sono curioso di sentire la vostra opinione. Se non vi siete ancora iscritti, questo potrebbe essere il momento giusto per farlo. Io sono Matteo Flora e vi faccio compagnia cinque giorni alla settimana raccontandovi di come la rete ci cambia. E come sempre, grazie mille per avermi ascoltato anche oggi e vi sto preparati.